Quale sarà l'altra novità? Intanto andiamo con ordine perché oggi Michelangelo ci dirà tutto. Michelangelo tra l'altro è testimonial di WeWorld al 45597 potete mandare tanti messaggi per fermare la violenza so che stanno aprendo tanti centri proprio per aiutare le donne e si è rimasto molto colpito dal nuovo centro che hanno aperto a Scampia Sì esatto, infatti io sono qui per parlare anche di WeWorld che è appunto questa Ollus che si occupa di sostenere le donne vittime di violenza ma non solo, diciamo che tutto è cominciato quando sono stato invitato a Scampia a partecipare a una riunione nello spazio donna, WeWorld di Scampia dunque conoscerai Scampia, è un quartiere noto per avere una certa durezza Per fortuna non più come una volta No, le cose stanno cambiando, anche grazie a WeWorld comunque sono entrato in questo spazio che è uno spazio assolutamente morbido, accogliente dove le donne possono andare con i loro figli a vivere un momento di tranquillità mettiamola così, è uno spazio dedicato a loro dove loro possono lasciare i loro bambini con delle operatrici che giocano insieme a loro e loro possono confrontarsi e parlare di tutte quelle che sono le loro problematiche anche di ridere insieme non è necessariamente uno spazio costrittivo ma è uno spazio di apertura io ho conosciuto molte donne che là dentro hanno potuto uscire da forme di isolamento diciamo in cui sono costrette hanno potuto raccontare quelli che sono i loro sogni, i loro desideri hanno imparato molte cose molte donne addirittura hanno ritrovato una grande fiducia in loro stesse perché tu devi sapere che l'hashtag di questa campagna si chiama mai più invisibili proprio per questo perché ci sono sai una donna su tre in Italia è vittima di violenza e molte donne non hanno l'opportunità di raccontarla non hanno il coraggio non hanno proprio non sanno alcune volte proprio a chi rivolgersi assolutamente e invece questi spazi nascono anche per migliorare la consapevolezza di quella che può essere una violenza sulla donna e anche per dare proprio l'opportunità di chiedere aiuto c'è una donna mi hanno raccontato una storia eccezionale c'è una donna che non aveva mai più potuto investire sul proprio talento una donna della grandissima creatività in questo spazio con le operatrici lei è riuscita a ritirare fuori il suo grande talento artistico hanno fatto anche dei laboratori per imparare a costruire dei gioielli anche piccole cose di artigianato lei ha migliorato, ha ritirato fuori le sue capacità poi addirittura lo ha trasformato in un lavoro ha affittato una piccola bancarella dove ha potuto vendere le sue cose ed è diventato il suo lavoro quindi proprio un percorso di rinascita, di crescita, di ispirazione hanno ritrovato fiducia in loro stesse hanno trovato il cosiddetto empowerment uso una parola straniera cioè hanno ritrovato il loro potere e a proposito di ritrovare il loro potere a un certo punto anche tu il potere con te stesso l'avevi perso ma andiamo un attimo con ordine perché prima l'ho detto tu fai parte dalla puntata 1 no non proprio, non proprio non proprio, tra puntata 3 1217 ah scusami eh, 1217 è così ragazzo anzi guarda ti dico che tra pochi giorni festeggerò il mio diciottesimo compleanno di messa in onda che è una cosa che non avrei mai immaginato diciottesimo compleanno sì, dovevo rimanere sei mesi invece poi sono passati diciotto anni diciotto anni e in questi diciotto anni sono successe tante cose perché a un certo punto sei andato anche via poi dopo sei tornato ma in questi diciotto anni è successa una cosa che ha colpito un po' tutti perché l'abbiamo seguita anche a chi l'ha visto ed è stato il tuo furto di identità allora, furto di identità cosa vuol dire? in questo filmato di chi l'ha visto si racconta quello che ti è successo una cosa gravissima assolutamente Ich liebe dich ich liebe dich ich liebe dich quella che vedete è la conversazione tra un certo Michelle Roulet e una ragazza tedesca non serve parlare la sua lingua per capire il tenore di questa chat la parola ti amo è praticamente presente in ogni messaggio quello che però salta più agli occhi è il volto dell'innamorato mi sa che lo abbiamo già visto anche da qualche altra parte Siamo negli studi RAI di Napoli dove si registra la popolare serie di Un posto al sole non è la prima volta che le foto degli attori di questa soppopera vengono utilizzati dalla criminalità africana per truffare donne straniere era già successo a Maurizio Aiello ora ad accorgersi del furto del loro profilo sono stati altri due attori di Un posto al sole sono Michelangelo Tommaso e Samantha Piccinelli che nella vita reale oltre ad essere colleghi sono anche marito e moglie in realtà non c'è tanto da scherzare i profili di Michelangelo e Samantha sono purtroppo finiti nella libreria di foto rubate delle organizzazioni criminali africane in particolare della costa d'Avorio e del Mali Michelangelo, una cosa gravissima cioè praticamente i truffatori rubano l'identità di una persona l'identità di alcuni uomini che ignari di tutto vengono utilizzati per adescare online delle donne sì e queste donne poi chattano, scrivono a questi uomini danno soldi alcune volte perché alcune volte soprattutto sì, molte volte danno soldi in cambio di di nulla in realtà di foto di messaggi d'amore di affetti virtuali purtroppo perché sai questa cosa falleva molto su una solitudine contemporanea che sembra essere alleviata e molto spesso lo è poi da incontri che vengono online però non è questo il caso io ho avuto notizia diciamo di quello che stava succedendo già alla fine di agosto dell'anno scorso quando mi ha scritto una ragazza tedesca di origine maltese e mi ha detto guarda c'è una persona che sta usando le tue foto però mi sta corteggiando e chiedendo dei soldi io ho detto come dei soldi ma non capivo in realtà perché capita a volte che ti facciano dei profili diciamo in cui usano le tue foto però non sembra questo lo scopo e invece lei mi ha parlato di questa cosa qua mi ha detto io mi sono fermata non ho dato soldi ho iniziato a indagare ho scoperto che c'era questa situazione anche con Maurizio Aiello ma non solo anche altri attori insomma è una cosa che succede molto di frequente e fino a che sono arrivato a dicembre dell'anno scorso quando una donna tedesca mi ha scritto molto spaventata perché era proprio ti ha scritto dove? sul tuo telefonino privato? mi ha scritto su Instagram e su Facebook pubblico quindi sui social sui social privati sì 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 e mi ha scritto dicendomi dove sei? voglio sapere dove sei? guarda per me è molto importante dimmi la verità dove sei? io dicevo guarda non so assolutamente chi tu sia e lei mi ha detto ti prego dimmi dimmi chi sei io ho detto guarda tu mi stai scrivendo qua lo sai chi sono e lei ha detto sono distrutta sono stata truffata io sto avendo una relazione sentimentale con te da più di un mese cosa ti ha detto? sto avendo una relazione sentimentale online con te da più di un mese e c'è uno scambio di messaggi e io ti ho appena mandato dei soldi quanto? non voglio dirlo quanto perché lei mi ha chiesto di non dirlo tanto? perché è una persona abbastanza una persona che si vergogna anche molto infatti anche questo è un aspetto molto triste di tutta questa storia perché diciamo per quanti casi mettiamo che sono tre i casi quattro, cinque, dieci che io riesco a sapere c'è un numero enorme di sommerso di casi di cui non si sa nulla quindi è una cosa in realtà anche che bisognerebbe insomma affrontare sempre più spesso perché è una forma diciamo di truffa molto silente oggi diciamo incoraggiamo anche noi con un posto al sole abbiamo incoraggiato con una storyline a raccontare queste queste problematiche che avvengono dal messaggero.it lo leggiamo allarme e truffe sentimentali sempre più donne e vittime ci rimettono dai 70 ai 100 mila euro allora qualcuno potrebbe dire ma come fai a mandare dei soldi ad una persona che non è mai visto che non è mai conosciuto allora adesso scusami Michelangelo tu hai parlato con questa signora tedesca sì è una giovane donna infatti mi racconti il profilo di questa donna è tra i 35-40 anni una donna non sposata che amante degli animali una giovane uno spirito libero diciamo una donna single però contenta della vita non particolarmente profilata da un certo punto di vista quindi è una cosa molto più comune di quanto si possa immaginare purtroppo è facile dire ma come è possibile sono state delle stupide eccetera ma non è così infatti non va assolutamente condannato questo fenomeno assolutamente è questo che io dico cioè non si parla della signora che ha una certa età e che non sa come gira il mondo e quindi viene fregata parliamo di donne che hanno piacere a condividere foto messaggi sono delle vittime totali assoluti ma ora ti racconto anche un'altra cosa perché è facile dire vabbè ma mandi i soldi uno che non conosci lo capisco ma attenzione se ci cascano tante donne vuol dire che sono proprio bravi questi eh ma scherzi ora te ne dico un'altra adesso è una cosa che non ho ancora raccontato hanno creato un profilo col mio nome e cognome con un numero accanto in cui dicevano che ero io che ero in crisi con mia moglie e che stavo cercando tra le mie fan qualche donna con cui avere un'avventura quindi è proprio cosa di pochi giorni fa scusa quella foto che ho visto col 102 no no quella foto non ci sono immagini di questo profilo stiamo lavorando con gli avvocati per questa cosa quindi è una cosa nuova 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 ora Michelangelo Tommaso ma perché ce l'hanno con te perché la tua faccia piace così tanto non lo so con queste donne no allora c'è in realtà una spiegazione mi hanno spiegato che è una è una cosa molto tipica prendere attori di serie diciamo di successo nei paesi in determinati paesi e utilizzarle come diciamo aggancio per un audience che non è a conoscenza di quel programma quindi per esempio è successo che ci siano attori del Sud America che siano stati utilizzati per truffare le donne in Europa capito perché sfruttano una popolarità più o meno localizzata e pertanto sanno che gli altri non potrebbero quindi Michelangelo Tommaso per questi signori si sta lasciando no di tutto ero vedovo mi sto lasciando vedovo pure sì sì è successo anche questo raccontami questa cosa di quando eri vedovo sì allora scusami io abitando un po' da tanto tempo a Napoli faccio i dovuti scongiuri falli falli no perché è una moglie è un figlio bisogna farli saggezza partenopea importata e messa qua tocchiamo legno e basta non posso fare altro però dicevo sì dunque mi raccontavano poi più casi mi hanno detto che venivo presentato come una giovane guida turistica che abitava in Africa di origine francese o tedesca a volte che aveva perso purtroppo la moglie da poco era rimasto solo insomma e quindi questo falleva naturalmente su un sentimento di compassione di partecipazione da parte della vittima tu hai parlato solo con quella signora signora con quella ragazza tedesca no 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 sempre di più e poi questa cosa delle fan appunto adescate di recente mi è arrivata proprio mi sono arrivate decine di messaggi sì è proprio roba di questa fine settimana sì però Michelangelo scusa non ti metti uno stato di ansia a essere usato per scopi così brutti non mi fa piacere assolutamente però so che è anche una cosa molto lontana da me io ne parlo il più possibile anche perché si sappia che non mi riguarda la cosa nel senso non sono io a fare queste cose qui vorrei che finisse so però per certo che è una cosa che ha un potenziale infinito forse invecchiando non lo so risulterò o meno attraente non lo so spero che si riesca a fermare in tutto questo lui ne parla ma lui prima ha denunciato certo sì sì con l'avvocato abbiamo fatto una querela e poi abbiamo fatto ma contro chi e perché eh contro vabbè abbiamo dato tutti i dati diciamo dei profili abbiamo avuto anche gli IBAN dove sono stati versati questi soldi insomma abbiamo fatto una cosa fatta bene con la mia avvocatessa donna quindi donna forte donna e abbiamo fatto un sacco di cose abbiamo fatto la denuncia al garante della privacy insomma sono tante le cose che abbiamo fatto e anche un impegno non voglio parlare di un impegno economico perché comunque chi lavora va pagato ma proprio anche un impegno di tempo per un professionista per un psicologico giustamente stressante molto stressante è una cosa stressantissima dimmi Lorenzo no immagino che sia anche oltre che per la vittima donna truffata e raggirata anche per la vittima Michelangelo uscire da questo circolo vizioso diventa quasi impossibile perché una volta che una foto gira potrà essere riusata da tantissime altre persone per tantissime altre truffe e qui all'hashtag vieni da me dicono una cosa importante che sottolineo che hai detto tu prima le donne vittime di truffa non vanno giudicate mai mai sono vittime punto tra l'altro cioè qua parliamo di un'organizzazione non parliamo di qualcuno che prende foto questa è un'organizzazione perché anche il tuo telefono ha avuto un comportamento un po' strano mi arrivano continuamente messaggi in cui mi viene chiesto dove sono sono disponibile per chattare se sono disponibile a fare delle chat dove mi spoglio il mio telefono si dove ti spogli si anche mi è arrivato questo e sono il mio telefono si è già localizzato in Africa molte volte è molto strana questa cosa no scusa è già localizzato in Africa ma tu stai a Napoli si anche a Roma quando sono in giro non lo riesco a capire adesso prenderò un telefono nuovo ma non so se sarà questa sarà questa la strada se conoscono il tuo numero conosceranno anche quello nuovo non lo so sinceramente guarda spero che finisca presto anche perché guarda ora voglio ritornare un attimo sul tema della violenza perché anche questa è una violenza contro le donne che si consuma in pienezza quindi spero che insomma si prenda in considerazione anche questo aspetto per quanto riguarda la violenza sulle donne una cosa che ti volevo dire che riguarda anche We World anzi che riguarda We World è che loro si occupano sia diciamo della violenza non espressa quindi delle donne che si considerano che diciamo sono cosiddette invisibili che tendono a sparire pur di non essere anche mirino della violenza ma per quanto riguarda proprio le donne che hanno subito violenza vera e propria conclamata e che hanno il coraggio di denunciarla sai che al San Camillo di Roma c'è uno sportello proprio un presidio di We World dove vengono soccorse aiutate le donne che hanno proprio un'emergenza in corso quindi è una grande risorsa tutto questo non bisogna anche di soldi di fondi ecco perché 45597 e a proposito di donne un posto al sole dove hai cominciato 18 anni fa ti ha fatto incontrare poi quella che è diventata la donna della tua vita mai avresti pensato su un set di trovare no ma per carità ma per carità ma per carità questa è una discriminazione per tutte le attriche no 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 però sai così sugli ambienti di lavoro non si sa mai eccetera io avevo detto veramente mai con una collega ovviamente mai con un'attrice forse è che me lo sentivo che comunque sarebbe cambiato qualcosa però così è andata nel senso noi incontri Samantha incontri Samantha mi presento l'ho convinto anche di avere un certo peso scenico e non solo lei non sapeva assolutamente chi fosse perché non vedeva un posto al sole non mi aveva mai visto da nessuna parte e ha detto ma chi sarebbe questo che arriva con quest'aria tutta però poi lei mi ha confessato che la prima volta che mi ha visto ha sentito qualcosa io ho solo pensato che fosse molto bella ma era un momento della mia vita in cui non cercavo l'amore perché non lo cercavi? perché beh insomma è una cosa di cui sto iniziando a parlare un po' adesso più o meno nel 2007 così ho avuto un paio d'anni in cui mi sono completamente diciamo perso forse completamente no ma mi ero abbastanza perso ho avuto una crisi personale molto grossa non avevo avuto dei grandi successi delle grandi opportunità ma mi sentivo beh c'era stato anche il film di Oz sì 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 è stata una bellissima opportunità quella quindi nel cinema sì è il massimo per un attore immagino certo sì sì per me era proprio un sogno però mi sono scontrato con un limite molto forte mio interiore cioè non mi sentivo all'altezza mi sentivo fuori luogo pensavo ma com'è possibile che abbia avuto questa cosa questa opportunità non me la merito mi sentivo veramente a disagio forse proprio con me stesso e quindi ho dovuto fare i conti con i miei limiti e i miei lati un po' più complicati mi sono quali sono stati questi questi lati complicati beh insomma diciamo delle insicurezze profonde non mi sentivo nel giusto mi sentivo che forse avrei dovuto fare altro che il posto che stavo occupando non era dedicato a me ma non ti eri piaciuto nel film di Oz? sì ma io sai cioè col film di Oz perché doveva dare la spinta era Saturno contro sì sì per fare non dico di più però sì sì ma infatti guarda erano anche arrivate un sacco di opportunità insomma molte cose erano successe e però vediamo una scena sul set ecco Samantha eh sì questa è una scena epocale quella in cui Luca Argentero appunto ha il malore e poi muore vabbè tanto l'abbiamo già visto come si può dire dieci anni fa comunque ho avuto bisogno di capire dove fossi e ho dovuto fare un bel percorso di approfondimento su di me ma avevi degli attacchi di panico? ho avuto anche degli attacchi di panico attacchi d'ansia molto forti era proprio ma in quel caso l'attacco di panico di ansia poi quando finisce sei pronto ad affrontare poi la giornata? ma devi farti forza nel senso che ci sono questi momenti in cui ti senti vuoto e ti senti che tutta la realtà che ti circonda non ti corrisponde è come se se tu vedessi dall'esterno una persona che non sei e quindi è molto strano per me è stato così ed è stato necessario andare a conoscermi e ho trovato però in realtà che alla fine si può uscire da tutte queste situazioni e si può conosciuto mi sono conosciuto allora presentati Michelangelo salve a tutti sono Michelangelo Tommaso buongiorno cioè questi limiti che tu vedevi erano delle insicurezze proprio ancestrali di quando ero piccolo non mi sentivo mai all'altezza sempre sempre a confrontarmi con gli altri invece ho capito che non cioè già da piccolo lo facevi hai capito questa cosa? sì sì era una cosa proprio in me cioè il bisogno di sentirmi sempre nel giusto il bisogno di essere sempre bravo non sbagliare mai e per vivere in una trappola diciamo di paura di fallire di sbagliare infatti io molte cose poi le ho bloccate da solo molte cose che stavano succedendo poi le ho tipo una cosa involontariamente beh c'erano dei progetti molto importanti a cui che non ho fatto mi sono tirato indietro ho ho fatto male il provino anche per non per non essere preso sì inconsciamente sì però ho smesso per fortuna e adesso insomma mi sento molto più forte mi sento un'altra persona anche grazie all'amore e l'amore perché torna a lavorare dopo aver fatto questo percorso interiore torna a lavorare e la vita ti regala lei Samantha si la facciamo entrare si può si può facciamola entrare dai è stato un bellissimo imprevisto che vi ha fatto incontrare e con Samantha voi avete un figlio giusto? abbiamo una figlia una figlia una bambina quattro anni e quattro mesi eri pronto per fare papà? sì più o meno no come allora ti racconto un po' nel senso che anche senza Samantha mi racconti? se me lo permette magari dai non sono cose segrete allora ti posso dire che io e Samantha in realtà eravamo promessi sposi noi ci siamo fidanzati ufficialmente nel dicembre 2014 e io le ho fatto una proposta di matrimonio molto canonica nel senso anche un po' originale però l'ho portata a Londra il 23 dicembre del 2014 dicendo che ci tenevo tantissimo ad andare a vedere un musical a Londra una cosa a cui tenevo particolarmente lei era arrabbiatissima mi ha detto ma tu non mi vuoi portare il 23 dicembre a Londra il 24 è Natale non mi rompere e io ho detto no ti prego ci tengo tantissimo e lei ha detto va bene dai proprio il tuo regalo di Natale sappilo siamo andati l'ho portata a Londra siamo andati a vedere questo musical e lei mi vedeva particolarmente eccitato tant'è che mi chiedeva ma che hai fatto che ti sei preso qualcosa no 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 tranquilla e poi alla fine è finito lo spettacolo una grande emozione siamo andati a passeggiare per il centro di Londra e ho trovato una strada tutta decorata a tema natalizio vuota dove non c'era nessuno e allora lì io ho preso il coraggio a quattro mani mi sono inginocchiato e le ho chiesto di sposarmi però avete dovuto rimandare tutto però lei ha detto sì no sì lei ha detto di sì sì però nel frattempo dobbiamo sposarci a settembre del 2015 nel frattempo sono successo un po' di cose io sono andato a New York perché poi nel frattempo ho iniziato anche a studiare in America recitazione insomma c'è tutto un percorso che va anche di approfondimento lavorativo lei è venuta con me insomma tutto quanto poi siamo tornati abbiamo iniziato ad organizzare i preparativi e lei mi faceva ma io mi sento strana sono un po' stanca mi gira la testa ma che cos'ho questo non mi piace e io faccio sei incinta? qua gatta ci cova e come si chiama la figlia? si chiama Sole Caterina pensa